Chiara Rabbi lancia una bordata a Davide Donadei per l'imminente ingresso al GF VIP7, la mossa social. Chiara Rabbi ha risposto alle ultime indiscrezioni relative alla partecipazione di Davide Donadei al grande fratello VIP7. La notizia però ha innescato una serie di pettegolezzi circa l'attuale situazione sentimentale dell'extronista di Uomini e Donne. Stando a quanto ha riferito Dejanira Marzano, che ha condiviso con i suoi followers alcune segnalazioni, il Salentino avrebbe lasciato la fidanzata Chiara Rabbi, l'ex corteggiatrice con cui era uscito insieme dal dating show di Canale 5, proprio per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. Donadei scelse la romana nel febbraio del 2021 e, da allora, lei aveva deciso di trasferirsi a Lecce per vivere e lavorare al fianco del suo fidanzato. Nelle ultime ore la ragazza ha risposto velatamente a queste insinuazioni, pubblicando un Instagram story. A chi le aveva chiesto, pur di arrivare alla televisione andresti contro i tuoi principi o ti venderesti? Cosa pensi di chi lo fa? Chiara ha semplicemente inserito un estratto del singolo Non cambio mai di Gemita Izemad Ma anche cita Forse ho perduto troppo spesso, ma è stato un venduto sottomesso. È stata la prima cosa che ho promesso, essere vero è l'unico compromesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.